Sono tornati bene, in senso che quelli che sono rimasti hanno lavorato bene, gli altri sono tornati dalle nazionali, qualcuno ha raggiunto l'obiettivo dell'Europea come Scesni, altri hanno fatto amichevoli. Da domani riparte il rush finale. Tu invece le chiedo di Ken. Mi aspetto molto, credo che poi lui abbia anche l'obiettivo di poter far bene, di dover far bene per cercare di guadagnarsi anche un eventuale posto nazionale per l'Europeo. E tanto che non gioca, comunque domani sicuramente farà una buona partita. Parte titolare domani, sì. Credo che in questo momento la cosa più importante, bisogna essere tutti focalizzati su quello che è il finale di stagione, perché comunque purtroppo abbiamo buttato tanti punti di vantaggio che avevamo sulle quinte. Sono contento che la società abbia rinnovato la fiducia, ma non avevo nessun dubbio su questo, perché comunque con la società stiamo lavorando, la società starà programmando quello che è il futuro. Ma in questo momento è importante, è fondamentale cercare di rimanere focalizzati su quello che è il presente. Nel calcio si vive anche questi momenti purtroppo, quindi bisogna rialzarci e cominciare a fare dei risultati che ci porteranno a quello che sarà l'obiettivo della società, quello di entrare in Champions. Per quanto riguarda quello che stanno facendo i ragazzi per la crescita, sono cresciuti molti giovani, sono cresciuti anche singolarmente quelli più anziani e soprattutto c'è entusiasmo, c'è voglia di lavorare. La squadra non ha mai smesso di cercare di fare bene. Cosa vedo? Sicuramente la voglia, la passione e l'amore che ho per questo lavoro e per questo sport che ormai frequento i campi di calcio da dieci anni, quindi ormai sono 47 anni, perché una volta quando ero bambino io iniziavamo a dieci anni, undici anni, ora cinque anni iniziano già a giocare. Diciamo che sto diventando diversamente giovane, quindi questo mi fa piacere e poi sono contento di quello che ho fatto, che ho passato, ma nello stesso tempo ho tanta voglia soprattutto di divertirmi ancora, di lavorare, di stare ancora sui campi. Aspetto, sicuramente è una squadra che cambia allenatore, avrà grandi stimoli, è una squadra che partirà forte, è una squadra che cercherà di ritornare alla vittoria e noi bisogna essere pronti a controbattere e a giocare molto bene tecnicamente, perché domani bisogna giocare molto bene tecnicamente. Per quanto riguarda Chiesa e Ediz, stanno tutti e due bene, sono tornati dalle nazionali, sono due giocatori importanti, che sicuramente in questo finale di stagione, con il rientro di Vlaucio alla squalifica, e speriamo di Milica più presto, avremo un parco attaccanti che ci dovrà consentire dei gol che ci permetteranno di arrivare e di raggiungere gli obiettivi. Diciamo che l'obiettivo nostro è quello di ottenere il massimo, non è il secondo, terzo e quarto posto. Noi dobbiamo cercare di fare i più punti possibili, soprattutto per invertire quello che è stato il giorno di torno in questo momento. Di questo bisogna essere realisti e bisogna prenderne atto. Quindi, ripeto, abbiamo nove partite, ci sono 27 punti a disposizione e 10 punti.